Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Torna in prima serata su Canale 5 Il Grande Fratello VIP, che arriva stasera lunedì 17 ottobre alla nona puntata. Mentre al televoto ci sono Giaele Dedonà, Nikita Pelizzone e Antonino Spinalbese. Stasera potrebbe arrivare una squalifica dovuta alla presunta bestemmia segnalata alla trasmissione durante la scorsa puntata di giovedì 13 ottobre. Faremo verifiche. Aveva annunciato in chiusura il conduttore Alfonso Signorini. Nonostante non abbia pronunciato nomi, l'imputato è Amauris Perez, tra l'altro sospettato di aver bestemmiato per la seconda volta. Nelle ultime ore, poi, sono circolate voci su una bestemmia anche da parte di Luca Salatino, lo chef romano diventato indiscutibilmente uno dei protagonisti di questa edizione. Per il resto, cosa succederà nella puntata di questa sera? Si parlerà certamente della neonata coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nei giorni scorsi, per i due piccioncini, è arrivato anche un messaggio nel cielo portato da un aeroplano con scritto Donnalisi ci portate finiti. Poi cosa succederà? Stasera entreranno forse nuovi concorrenti? In rete sono circolati i nomi di Patrizia De Blanc, Elena Prestes e Umberto Smaila. Non ci tocca che attendere la puntata di oggi.